Guagliù, non è Natale se a casa di ogni napoletano non ci sono gli struffoli. Oggi faccio gli struffoli napoletani morbidi. Guagliù, anche dopo una settimana sono ancora morbidi. Non ci credete? E allora seguitemi e adesso vedete come li facciamo. Dai Guagliù, dai! Guagliù, buongiorno. Oggi facciamo struffoli napoletani alla mia maniera e li facciamo belli, morbidi, morbidi. Seguitemi e la ricetta è dedicata a Pasquale e Palumbo. Pasquale, buona faccia per creare. Dai, andiamo a vedere gli ingredienti e faticiamo. Ingredienti, guagliù, miele, uova, zuccherini vari e guagliù, qua in Germania purtroppo non ho trovato tutto, mi devo arrangiare però Guagliù è stroffoli e voglio fare. Bustina di vanillina, lievito di pan degli angeli, liquore all'anice, burro morbido, poi abbiamo aroma all'arancia, potete mettere anche aroma al limone però all'arancia è ancora più buono, zucchero, farina e olio di semi di arachide. Allora Guagliù, andiamo a impastare tutto. Le dosi ve le do dopo nei commenti, ok? Perché ho fatto la dose qui per un chilo di farina. Ok? Allora, partiamo con una bull, ci mettiamo la farina dentro, è normale. Poi ci vado a mettere il lievito pan degli angeli, perciò viene anche bello morbido, ok? Una bustina di vanillina, perché nella ricetta originale il lievito pan degli angeli non c'è. Quindi sto facendo una versione per farli venire belli morbidi. Uova, liquore all'anice o limoncello, oppure potete anche non metterlo. Poi mettete l'arancio, l'aroma di arancio, almeno due cucchiaini, che dà un bel sapore. Burro, che l'ho lasciato fuori frigo, almeno un'ora, che così si ammorbidisce tutto. Poi ci mettete lo zucchero, vi ricordo le dosi le andate a vedere dopo, nei commenti, e impastate tutto. Anche se all'inizio sembra un po' farinoso, ma non vi preoccupate. Staccate prima lateralmente, poi schiacciate centralmente, e vedete che poi viene un impasto bello compatto e omogeneo. Adesso ve lo andate a passare un po' sul bancone, e ve lo andate a lavorare alla vecchia maniera. Old school, ragazzi, mani in pasta e impastiamo. Guardate com'è venuto bello liscio, compatto, guardate là com'è bello morbido. Fra un'ora, che adesso lo mettiamo a riposare un'ora, nella pellicola, è ancora più morbido, ed è ancora più buono. Anche da crudo, me lo sono mangiato un pezzettino, perché io lo adoro fare, come lo facevo con la nonna, tale e quale. Allora, passato un'ora, andiamo a separare, e adesso che cosa andiamo a fare? Andiamo a fare tipo come dovessimo fare gli gnocchi. Però, l'unica cosa è che facciamo le striscioline piccole, piccole, piccole. Vedete? Non tanto grandi, non tanto piccole. Poi, vedete voi anche la grandezza che voi desiderate, eh? A me non mi piacciono neanche tanto, tanto piccolini. E poi me li vado a tagliare, ok? Ma qui, se avete la pazienza, ve li potete pure arrotondare un pochettino con le manine. Però, voglio, andatele a mettere nell'olio, e poi dopo si arrotondano da sole. Quindi, potete anche non farlo, ok? E ve li mettete un po' nella farina, che poi dopo andremo a setacciare, perché poi dopo non ci serve troppa farina. Vedete? Prima di andarla a mettere nell'olio a 160, a massimo 170 gradi, non 200 e troppo, me li vado a setacciare nel passino stretto, perché non ci deve essere farina. E altro trucco, per non farle venire proprio duri, 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 è non cuocerli tanto. Appena incominciano ad dorarsi, li prendete e li togliete. Vedete? Sono ancora morbidi dentro, vedete? E questo, se li fate fare poi troppo marroni, troppo scuri, poi fra due, tre ore, due, tre giorni, diventano proprio le pietrine. Allora, adesso che le avete fritte tutte, ci mettiamo in una pentola il miele. Vedete? Su un chilo di struffoli, almeno ci vogliono 400 grammi di miele. Ma poi dopo vi do la ricetta precisa, con tutte le grammature. Una volta che avete sciolto il miele, ci mettete gli struffoli a poco alla volta dentro e lasciate girare e girare e girare, ok? Ma lì dentro stesso, vedete come hanno incorporato bene il miele, ci mettete un po' di zuccherini dentro e poi dopo il resto degli zuccherini ce li andate a mettere sopra come decorazione. Poi se mi state vedendo la ricetta da Napoli, voi giù potete mettere tutti quei canditi, tutte quelle belle cose. Io queste cose qua purtroppo non ce l'ho. Però, vaiù, è la fine del mondo. Vaiù, ecco lì qua. Vedete? Anche se sto in Germania e ho veramente nostalgia della mia terra, sì, cose che io le devo fare. Mi dovete chiedere, sono emozionato. È troppo bello. Mi mancano tante di quelle cose normali che non sono riuscite a trovare, però, vaiù, accontentarsi si può. E oggi sono felice. È la cosa più felice, lo sapete perché? Perché sono morbidi. Vieni qua. Facciate un po' di qua. Non sono tost, sono morbidi. Morbidi. Bene. Questi pure fra una settimana saranno ancora morbidi. Nella fine del mondo, Pasquale, Pasquale Palumbo. Ti ho dedicato una ricetta che io ci tengo tantissimo. E grazie di cuore per tutti i messaggi. Vaiù. Il leone vi manda un abbraccio. E qua, ma qual la dieta. Vaiù. Auguri a tutti. Grazie. 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 Grazie.